Anche il paese più piccolo della regione si tinge dei colori più rappresentativi del Natale. Sono stati inaugurati ieri, domenica 4 dicembre, il grande albero addobbato davanti alla sede municipale di Celle San Vito, le luminarie lungo le vie del paese e, novità di quest'anno, la casetta di Babbo Natale. Celle di San Vito si presenta come un piccolo grande presepe natalizio, con le luci e i colori che brillano a distanza, che si intravedono già avvicinandosi alla rotonda altura su cui sorge il borgo. La casetta di Babbo Natale è stata arredata dagli operatrici dello sportello linguistico di Celle e da alcune volontarie, mentre quasi tutto il materiale che compone l'arredamento è stato donato dai cittadini. In occasione dell'accensione dell'albero delle luminarie e dell'apertura della casetta di Babbo Natale, la comunità cellese si è ritrovata per un momento di festa con la degustazione di pizze fritte, tipicità del territorio e del periodo natalizio. Invitiamo tutti a godersi una passeggiata fra le nostre luminarie e il paese illuminato a festa. È sempre una forte emozione, sia per i grandi che per i più piccoli, ha concluso la sindaca Maria Giannini.